Il presidente della regione difende la riforma dell'acqua, competenza esclusiva della Sicilia. Mafia, oggi a Palermo le commemorazioni in ricordo del procuratore Costa, del vicequestore Cassarae e dell'agente Antiochia. Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale di Altavilla Milicia dopo l'esito della sentenza del TAR. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di giovedì 6 agosto. Come avete sentito, il presidente della regione Crocetta difende la riforma dell'acqua, competenza esclusiva della Sicilia. Oggi intanto continua il dibattito in aula. Vediamo. Trovo stucchevole il dibattito sulla costituzionalità della legge sull'acqua pubblica, anche perché il problema semmai potrebbe porsi sull'interpretazione di qualche comma. Voglio ricordare che le dichiarazioni di anticostituzionalità in Italia le fa solo la Corte Costituzionale, non i governi, né i deputati o gli assessori. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, interviene nella polemica scoppiata intorno alla legge sull'acqua pubblica, una riforma che si vuole approvare entro il 12 agosto, data di chiusura del Parlamento regionale per ferie. Il Parlamento siciliano, ha detto ancora il governatore, ha aperto una grande sfida, collegandosi con l'attuale disegno di legge in aula, con le grandi correnti umanitarie di pensiero a livello internazionale. Trovo questa una grande affermazione di dignità e di autonomia della politica siciliana. Le dichiarazioni singole vanno considerate pertanto espressioni di opinioni personali. La linea del governo, e non può essere altrimenti, è quella del programma consegnato ai cittadini e protocollato presso la Segreteria Generale del Comune di Tusa il 29 settembre del 2012. Indietro non si torna. Sull'articolo 1 della legge si è consumato uno sconto durato tre ore. Di fatto la norma non chiude del tutto la porta ai privati, ma cancella il principio che l'acqua possa essere assoggettata ai canoni di mercato. Quasi scontata l'impugnativa di questa norma da parte del governo Renzi, visto che comporta spese e nascita di nuove partecipate, o il riavvio di carrozzoni in fase di chiusura. L'Aula ha ripreso il dibattito oggi. Il 6 agosto del 1980 a Palermo l'omicidio del procuratore capo Gaetano Costa, esattamente cinque anni dopo. La mafia uccise invece il vicequestore Nini Cassara e l'agente Antonello Antiochia. Oggi quindi è il giorno del ricordo. Vediamo. Quella del 6 agosto è una data da ricordare, una data segnata dal sangue, in cui si ricordano tre uomini di Stato che hanno sacrificato se stessi nella lotta alla mafia. Nel 1980 l'omicidio a Palermo del procuratore capo Gaetano Costa, ucciso alle cinque del pomeriggio sul marciapiede di via Cavour, mentre stava passeggiando da solo davanti un'edicola a due passi da casa. Rita Bartoli, la moglie, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel lontano 1983, affermò «Mio marito fu lasciato solo a firmare i mandati di cattura contro la cosca a spatola in zerillo. Qualcuno lo additò addirittura come unico responsabile di quei mandati. lo andarono a raccontare in giro agli avvocati dei mafiosi e anche ai giornalisti». Cinque anni dopo, nella stessa data, in via Croce Rossa, sempre a Palermo, la mafia colpì invece il vicequestrore Nini Cassarà e l'agente Antonello Antiochia alle 9 del mattino. Rimasero feriti nell'agguato Giovanni Salvatore Lercara e Natale Mondo. Antiochia aveva soltanto 23 anni ed era ritornato dalle ferie per stare accanto al suo capo. La moglie di Cassarà, facciatasi dal balcone della propria abitazione, vide morire il marito e chiese aiuto ai vicini. La risposta però fu il silenzio. Ancora rimangono molti punti oscuri. Chi informò il comando di Cosa Nostra che Nini Cassarà stava tornando a casa e chi fu la talpa? Stamattina in questura a Palermo la cerimonia di commemorazione, la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide, la presenza del prefetto Francesca Cannizzo, del questore Guidolongo e del sindaco Leluca Orlando. L'ennesima tragedia nel Mediterraneo, centinaia di migranti sono annegati dopo il capovolgimento di un barcone che trasportava circa 400 persone, l'Associazione Umanitaria Medici Senza Frontiere lancia un allarme. L'ennesima tragedia nel Mediterraneo in cui centinaia di migranti sono annegati dopo il capovolgimento di un barcone che portava circa 400 persone, evidenzia la grave carenza di un adeguato sistema di ricerca e soccorso in mare. Lo afferma l'organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere che ieri ha partecipato ai soccorsi. La barca di legno si è capovolta vicino alla costa libica poco prima che arrivasse sul posto la nave di soccorso. Soltanto la metà delle persone a bordo sembra essere sopravvissuta, persone che si aggrappavano disperate ai giubbetti di salvataggio, alle barche, a qualunque cosa trovassero per cercare di salvarsi la vita in mezzo ad altri che stavano annegando o erano già morti. Altre navi sono poi giunte sul luogo del naufragio per partecipare alle operazioni. Cinque dei sopravvissuti erano in condizioni così gravi da richiedere l'evacuazione via elicottero. Soltanto due giorni fa cinque persone sono morte per disidratazione dopo 13 ore su un barcone e ieri questa tragedia è da appena 15 miglia dalla Libia. L'unica soluzione per porre fine a lutti e sofferenze in mare, secondo Medici Senza Frontiere, è aprire vie legali e sicure per consentire a queste persone costrette a fuggire da guerra e povertà di trovare sicurezza senza rischiare la vita. Domani pomeriggio Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlio Loris Stival, uscirà per qualche ora dal carcere di Agrigento per andare a pregare sulla tomba del bambino. La donna infatti ha ottenuto un permesso dal GIP di Ragusa dopo il parere favorevole della Procura. Il GIP però ha vietato qualsiasi contatto, non potranno avvicinarla né familiari né altre persone. Ieri sera si è riunito il Consiglio Comunale di Altavilla Milicia dopo l'esito della sentenza del Tar Lazio che ne ha stabilito il reinsediamento dopo 18 mesi di commissariamento, legittimandone così la piena integrità morale e la correttezza del suo operato. Le interviste. In effetti è stato un periodo abbastanza triste e duro. Mettiamoci tutto alle spalle. La comunità ha bisogno di avere un punto di riferimento certo, ha bisogno di serenità, ha bisogno di riprendere quella pace che già c'era prima e ha bisogno soprattutto di avere certezza sul futuro di questo Paese. Abbiamo già iniziato velocemente cercando di migliorare il decoro urbano, la pulizia delle strade, la pulizia delle contrade. Piano piano ci faremo rispettare, c'è un continuo interfacciarsi con la gente che prima non c'era, fermo restando che nulla abbiamo da rimproverare nella Commissione né a nessun altro. Noi siamo persone per bene, abbiamo messo una pietra sopra su quello che è successo, chiaramente le ferite e i dolori rimangono, però servono. Si rimarginano, possibilmente, però servono a insegnarci qualcosa, che è diversa la giustizia dal giustizialismo, la legalità dal legalismo. Ancora è passibile il provvedimento comunque di un gravame. La Commissione, il Presidente della Repubblica, l'Avvocatura e lo Stato, teoricamente, possono fare appello. Anche se sinceramente lo escludo, perché gli strafalcioni che hanno compiuto nella fase dello scioglimento lasciano pochi margini ad una correzione di questo provvedimento giudiziario del Tarlazio, che li ha, devo dire, ha sanzionato queste condotte imprudenti. Circa, invece, il merito della questione mi faccia dire che io sono un federalista convinto, ma di tipo prudoniano, che significa per me il Comune la prima cellula della rappresentanza democratica. Io per me neanche dovrebbe esistere un governo centrale. Dovrebbero esistere tanti comuni che gestiscono tutti i cittadini in posizione di parità. Quindi questo ritorno del potere ai soggetti legittimati al popolo è una cosa bellissima, una festa. Poi nel caso di Specie il Sindaco è un uomo notevole, è un uomo di parola. E quindi è davvero una festa questo Consiglio Comunale odierno. Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale Agrigento Palermo a scontrarsi un furgone ed un auto articolato. A perdere la vita è stato il conducente del furgone, Nicolo Mustazzo, di 63 anni, di Cammarata. In gravi condizioni, invece, il conducente del mezzo pesante. Da anni la prima circoscrizione chiede che venga ripristinato il manto stradale in via Filippone una traversa di corso Alberto Amedeo a Palermo. Ascoltiamo allora il consigliere Antonio Nicolao. La via Filippone, una traversa di corso Alberto Amedeo, è ridotta in condizioni veramente terribili. Voi denunciate questo stato di cose già da parecchio tempo. Sì, infatti, la prima circoscrizione in data 37 2014 ha approvato all'unanimità il rifacimento dell'asfalto di via Filippone dove si evince con facilità proprio la presenza di vari dislivello di pavimentazione e anche presenza di buchi dove fuoriescono dei topi di una misura abbastanza grande. Pertanto dico, lanciamo questo appello all'amministrazione comunale e anche alla RAP affinché calendarizzi nel più breve tempo possibile il rifacimento del manto stradale di una via transitatissima di pedoni, di motocicli che rischiano anche di cadere e di cittadini. C'è anche la presenza di fabbriciti, un risultato di materiale edile abbandonato in questa via. Insomma, è una via che merita un po' di attenzione da parte dell'amministrazione comunale nella fattispecie dell'arrappi che possa bonificare attraverso un sopralluogo tutto ciò che c'è da fare con urgenza. Arrivano i finanziamenti e partono i lavori di ristrutturazione della scuola Cirincione di Bageria. Il Cirincione è destinatario di un finanziamento PON, i cui lavori già sono in essere. Dopodiché abbiamo predisposto nell'intera somma che avevamo stanziato per la manutenzione scolastica una somma per il Cirincione pari a 260.000 euro, sia opere di demolizione di intonaci che di controsoffitti che la collocazione di un controsoffitto di sicurezza sui soffitti della scuola. Stiamo fondamentalmente demolendo tutte quelle parti che sono state interessate, quindi gli intonaci a grosso spessore, così come alcuni controsoffitti per re, ci sono i controsoffitti costruiti all'antica, li stiamo demolendo e stiamo sostituendo tutto con un controsoffitto di sicurezza in grado di tenere carichi molto pesanti. Quindi andiamo a vantaggio della sicurezza dei piccoli occupanti, della didattica e del personale tecnico. La promessa che era stata fatta quando è successo questo increscioso incidente che tutti conosciamo da parte dell'amministrazione comunale è stata mantenuta. Sono stati mesi molto complessi, nel senso che si è lavorato a ritmo sostenuto, finalmente abbiamo l'operatività dei due cantieri, quindi abbiamo i cantieri che sono in pieno svolgimento e quindi siamo veramente ottimisti che a settembre riprenderemo l'attività didattica nel nostro plesso. Se ci saranno eventuali problemi organizzativi li affronteremo sempre come siamo stati sempre abituati a fare e quindi sicuramente le famiglie possono stare tranquilli. Staggi assolutamente contenuti. Contenuti, ma soprattutto la sicurezza, quella che noi abbiamo come primo obiettivo e quella assolutamente sarà confermata, garantita. Grande successo ieri sera al Castello Ottoveggio per il poema sinfonico, così parlò Zaratustra. Il filosofo Massimo Cacciari e il grande poema sinfonico, così parlò Zaratustra di Strauss. Sono stati i protagonisti e il secondo appuntamento con il ciclo di musica e incontri sulle stelle a Castello Ottoveggio. Tema della serata, le stelle prima di noi. Per il poema sinfonico, Richard Strauss trasse ispirazione dal libro omonimo di Friedrich Nietzsche. Composto nel 1896 ed eseguito per la prima volta a Francoforte, nello stesso anno il poema sinfonico si apre con la famosa fanfare iniziale che accompagna il sorgere del sole. Ogni sezione della partitura fa riferimento al titolo di uno dei capitoli del libro. A dirigere l'orchestra del Teatro Massimo, Stefan Klingele. A introdurre la musica, Massimo Cacciari. Le mura del teatro, ha detto il direttore artistico, Scarpizzo, sono diventate troppo strette per la nostra fondazione e l'estate ci dona l'occasione di portare musica in tutti i luoghi della città, dal mare al cielo. Il 9 agosto alle 20.30, ultimo appuntamento del ciclo a Castello Ottoveggio con le stelle dentro di noi, incontro con il missionario laico Biagio Conte che ha fondato a Palermo una comunità di assistenza a barboni e migranti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni.